E tu come fai a saperlo? Sono o non sono una spia? Andiamo di là! Visto che vuoi avere sempre ragione tu! Direi, tu pensi di aver aperto la porta col pensiero! Si chiama telecinesi? Sì, si chiama telecinesi! Andiamo di là! No, io voglio andare di là! Luì, ma perché sei venuto fin qui? Perché? Non ringraziarmi se mi preoccupo per te! Non te l'ha chiesto nessuno! Allora sai cosa ti dico? Addio! Addio! Tanto sono sicura che da sola riuscirò ad uscire più facilmente da questo incubo! Siamo pari! Dobbiamo uscire da qui! Ci vorrebbe un'idea! Pensa, pensa, pensa! Il bastone! Ma certo! Ci provo! Sono un vecchio saggio! Chi sei? Il vecchio saggio! Il vecchio saggio! Wow, non ci credo! Che onore! Grazie per essere apparso! Perché questa volta siamo davvero spacciati! Puoi dirci qual è la botola giusta per uscire vivi da qui? Ovviamente no! Ma cosa? Puoi dirci qual è il vero piano del signore S? Cosa intende quando dice quel che seguirà? Ovviamente no! Ma come? Vi dirò qualcosa di più importante da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano! Lasciamo perdere! Questo è pazzo! Ma no, lui non è pazzo! Ha detto una cosa molto importante! Wow! Ha detto che soltanto se uniamo le nostre forze riusciremo ad uscire! Quindi facciamo un patto! Ci aiutiamo ad uscire di qui insieme e poi ci separiamo per sempre, ok? Affare fatto! Pace? No! Trego momentanea! Yeah, yeah!